Vincono la Zalf, nello specifico soprattutto Simone Velasco nella 46esima edizione della Ruota d'Oro, sprint a 4 nel finale dopo una gara che ha visto, dopo appena 12 km, una fuga composta da 19 uomini che di fatto ha tenuto per l'intero tragitto rispetto a tutti gli altri inseguitori, solo in 5 in pratica sono rientrati sui fuggitivi stessi. Decisivo poi per la corsa l'ultimo strappo sulla salita della frazione della Cicogna, qui infatti hanno allungato in 4 ovvero appunto Velasco, Bagioli, Raileanu e Lizde un quartetto continuo nonostante l'astico di qualche ulteriore tentativo di fuga, poi appunto lo sprint. Velasco è stato più veloce di tutti, dietro di lui ecco Seid Lizde, catanese con origini bosniache del team Kolpak ed il campione nazionale moldavo Cristian Raileanu della Gia Gaia Plast, maglificio LB Bibanese. In quarta posizione si è classificato Nicola Bagioli, compagno di squadra del vincitore. Prosegue dunque la tradizione di 7 vittorie italiane consecutive nella gara terranovese, la grande classica dell'Under 23. Grazie a tutti.